Ripristinata oggi la viabilità sulla SP20 che collega Pianella a Loreta Putino tramite la località Contrada Cartiera, la viabilità è potuta ripartire grazie alla collaborazione che c'è stata tra il sindaco di Pianella e il presidente della provincia di Marco. Il tempo trascorso sicuramente è un dato eccessivo rispetto a quella che era l'intervento da compiere e il fatto comunque oggi arrivare a questa sia pur parziale riapertura ci consente di iniziare un percorso da qui in avanti di progettazione dell'intervento definitivo che a questo punto non potrà che essere di assoluta priorità. Il comune di Pianella ha fatto la sua parte facendosi carico della realizzazione e della gestione del sistema semaforico. Credo che le istituzioni comunque debbano avviarsi a questa giornata con un profilo piuttosto basso perché comunque i disagi sono stati tanti e dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche perché da qui in avanti non dobbiamo più perdere un minuto di tempo per la riapertura definitiva. Parliamo di una strada fortemente offruita dalla collettività non solo di Pianella ma soprattutto di tutta quest'area e che mette insieme più ambiti territoriali che non possono fare a meno di questa arteria. Devo ammettere che l'anno scorso la struttura tecnica della provincia insieme a quella finanziaria hanno avuto anche la possibilità di recuperare alcune somme sparse nei vari capitoli e fare questo pronto intervento. Adesso abbiamo anche dei fondi ulteriori che sono 500 mila euro che il Presidente D'Alfonso ha assegnato a noi e con questi interverremo sia qui e sia su alcuni interventi della bonifica che risiede tra Cepagatti e Alanno. Stiamo già avviando le procedure quindi credo proprio che tra un mese e mezzo i lavori potrebbero già incominciare a esserci quelli ulteriori.